E' il giorno dopo, dopo l'abbandono a malincuore della corsa alla segreteria regionale della Lega da parte di Roberto Marcato. Aveva annunciato che non si sarebbe tirato indietro se non davanti a un leghista con una storia, una visione e un amore dei militanti più forti dei suoi. Invece i giochi politici e le tattiche hanno ottenuto l'inatteso. E ora in ballo restano in due Franco Manzato, ex sottosegretario, sparito un po' dai radar del territorio dalla sua discesa verso Roma nel 2018, forte oggi di 82 firme a sostegno e fra queste autografi di peso come quelli di Giampaolo Gobbo, Toni D'Area e Dimitri Coin. E Alberto Stefani, attuale commissario regionale, candidato con 95 firme a sostegno, il massimo consentito. La sua sfida sul ring di Via Panà a 90 è pronta e riassunta sui social in 15 punti. Investendo nella formazione, nelle feste di partito, ma soprattutto nella tutela degli amministratori e dei sindaci che rappresentano la nostra spina dorsale. Da sindaco di Borgoricco lo sa bene, da commissario della segreteria regionale dal 2020 lo ha imparato. La Lega in Veneto oggi è spaccata, l'obiettivo è riunirla. Non dobbiamo cedere a divisioni, ma dobbiamo guardare uniti le sfide del futuro, che sono le 300 elezioni comunali che avremo da affrontare, le elezioni provinciali e le elezioni europee. C'è un partito da difendere, un partito che deve tornare ad essere il primo partito in Veneto, così come è già avvenuto nelle scorse amministrative. Per riuscirci al futuro segretario servirà tutto l'apporto possibile e Stefani allunga già la mano intanto a Roberto Marcato. Lui rappresenta comunque un'anima di questo movimento politico con cui ho avuto il piacere di dialogare in questi mesi e continuerà ad essere così anche nel corso dei prossimi anni. Le sirene che cantano contro parlano di una Lega che in questi ultimi anni si è fatta troppo incantare da Roma e Salvini, di una Liga che si è fatta inghiottire, non solo nel nome, da Via Bellerio. È la nostra battaglia da sempre ed è una priorità per questo movimento politico e quindi deve continuare ad esserlo. Poi ci sono anche sicuramente sfide territoriali. Il tema del regionalismo, dell'autonomia, del decentramento politico-amministrativo è un tema che interessa tutta Europa e quindi può sicuramente essere un tema dell'agenda europea che noi dobbiamo sicuramente promuovere. Stefani Manzato, guantoni indossati, appuntamento per i delegati, sabato dalle 9 alle 18 a 90.